Il famoso cantante italiano Valerio Scanu è stato presente di recente, oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, su Raiuno. Diventato famosissimo in tutto il nostro paese d'Italia, grazie ad amici di Maria di Filippia, ha vinto anche un Sanremo, in maniera anche abbastanza esordiente. E parla della vittoria di Sanremo, ero già una iena, avrebbe detto che sono corretto, ogni tanto bisogna pensare tutto intorno e bisogna anche andarsi a difendere. Anche in questo mondo dello spettacolo io non ho sgomitato, ricordo che ero un ragazzo di 19 anni, all'interno di un frullatore, non avevo neanche il tempo di fare qualcosa, Tanta cavetta avevo fatto, ho iniziato a fare piano bar, già all'età di 10 anni, e poi la bellissima trasmissione, amici, di Maria di Filippi. Valerio Scanu, da giovanissimo, si è andato a giudicare, addirittura la vittoria di Bravo Bravissimo. Insomma, Valerio Scanu si parla, si racconta, si apre a 360 gradi, ormai un artista a tutto tondo, anche grazie ai genitori, e purtroppo di recente è scomparso anche l'amato padre. Infatti ricordo che Verani aveva un ottimo rapporto con il suo amato padre, che si chiamava Antonio, aveva 64 anni, era abbastanza giovane, secondo la mia opinione, non anzianissimo, comunque non era neanche, diciamo così, antichissimo. E ha accrocontato proprio che sarebbe stato il Covid, il coronavirus, a uscire da farlo fuori. In particolare provava a chiamarlo, ha smesso di rispondere al telefono, così ha fatto sapere Valerio Scanu. E' stato in trasferito in terapia intensiva, cioè in sub-intensiva, poi dopo in terapia intensiva. La situazione poi si è andata a precipitare in maniera gravosa. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Valerio Scanu si conferma, ovviamente, un ottimo, nonché un eccellente cantante, veramente bravo in gamba. E quindi rivolgo a lui i miei più sentiti complimenti, le mie più sentite congratulazioni. Detto ciò, grazie a tutti, iscrivetevi al canale, nel rato italiano, questo video non vuole rendere la privacy di Valerio Scanu e di altre persone, ma informare eventuali persone e basta. Valerio Scanu, secondo me, possiamo etichettarlo come un cantante di grande calibro e di grande talento.